L'Aggiunta regionale ha stanziato poco più di 9 milioni di euro per le attività di bonifica, i piani di caratterizzazione, le analisi di rischio, la messa in sicurezza permanente dei siti e le indagini preliminari per le discariche accertate. E' proprio quest'ultima voce ad interessare da vicino le aree interne di Irpinia e Sannio, con una miriade di progetti, 19 per la precisione, che interessano le due province. Nello specifico 12 comuni per l'Irpinia e 7 per il Sannio. Si tratta di finanziamenti per le indagini preliminari, una partita da 3 milioni di euro sui nuovi complessivi destinati ai comuni interessati alla gestione post-mortem delle discariche, che senza queste indagini, ha sottolineato l'assessore regionale Giovanni Romano, non potrebbero utilizzare i fondi già stanziati dall'Aggiunta per la bonifica dei siti. Un passaggio burocratico dunque, ma anche sostanziale, considerando che da Palazzo Santa Lucia la somma stanziata, uguale per tutti, ammonta 50 mila euro. Le attività di bonifica è già in corso e quelle che finanziamo oggi confermano che la tutela ambientale resta una delle priorità dell'Aggiunta regionale guidata da Caldoro, ha detto Romano, a margine della delibera. Negli ultimi quattro anni abbiamo messo in campo risorse finanziarie per oltre 300 milioni di euro. Stiamo così attuando il piano regionale delle bonifiche, ha concluso l'assessore.